Cosa significa fare benessere animale? Benessere animale significa una serie di parametri che non è solo quella di vedere un animale al pascolo, ma è quello che dà più condizioni, più o meno un disciplinare che conta 40 punti, da quelli che vanno la spazio, la luce, l'area su cui stanno il bestiame, il benessere dove ci siano paglie asciute, dove si possono adagiare, l'alimentazione, l'acqua, lo stesso personale che deve essere formato, il rischio batteriologico, cioè quando prendo un animale da un altro allevamento e lo porto nel mio allevamento, cioè tutta una serie di cose, di parametri. Qua lo potete vedere, vedete lo spazio, vedete la porta in fondo dove l'animale può entrare e uscire, quindi deve avere un padocco esterno su cui muoversi e un padocco interno con paglia asciutta su cui riposare. Per essere benessere animale, l'animale deve riuscire a stendersi, quindi essere completamente disteso e adagiato insieme a tutti gli altri. Quello significa creare benessere. Perché vi faccio vedere questo? Perché con tutte le trasmissioni che vedete e ne vedete di ogni, dove fanno vedere allevamenti intensivi, voglio farvi vedere anche queste realtà dove c'è gente che lavora con passione, anima, dedizione e dedica tutto quello che è la propria vita in questo, perché è un lavoro in cui crede, un lavoro in cui non è per fare business, ma è un lavoro su cui ci si crede, dove c'è rispetto per l'animale, rispetto per la natura e soprattutto benessere animale. Cos'è la vita senza l'amore? E come un albero che foglie non ha più E salsa il vento, un verzo freddo, come le foglie...